Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Ottica Iride vi ricorda che sono arrivate coloratissime collezioni di occhiali da sole e da vista delle migliori marche. Inoltre Ottica Iride è specializzata in lenti progressive ed è anche centro ottico autorizzato di lenti Zeiss. Ottica Iride si trova sul corso Garibaldi 125 di fronte ospedale di merito. Ricorda, vederci bene significa vivere bene.